Oggi vorrei ritornare a parlare del presunto abbandono della nave da parte del comandante Schettino. Schettino non ha abbandonato la nave e oggi spero di convincere quelli che ancora sono indecisi su questo punto. Ore 22.58 inizia l'abbandono della nave. Subito il ponte 3 di destra viene preso d'assalto dai passeggeri ansiosi di scendere dalla nave. Sono ammainate le scialuppe con il compito di portare i naufraghi nel vicino porto dell'isola del Giglio e di ritornare rapidamente alla nave per imbarcare altri passeggeri. Poi aiutati dal personale di bordo molti altri passeggeri raggiungono il ponte 3 di destra. L'evacuazione va avanti con relativa calma e con molta efficienza perché intorno a mezzanotte più di 4 mila persone sono state trasferite a terra. Il ponte 3 appare come lo vedete. Non c'è più resta, poche persone si muovono con calma e soprattutto il comandante Schettino continua a coordinare le operazioni di sbarco. Lo vediamo tranquillo, senza salvagente, mano in tasca. È impossibile pensare che il comandante sia pronto a scappare. E questo è il punto. Chi l'ha accusato di aver abbandonato la nave ha travisato il senso di queste immagini ufficiali. Poi succede qualcosa. Attenzione, la nave si sta rovesciando. Sta rovesciando! Sta rovesciando, eh! Sta rovesciando! Attenzione, la nave sta rovesciando! Attenzione! Arroterai l'attimo! Attenzione! Ora vorrei che foste voi a guardare e a trarre le conseguenze. Non ci sono immagini della nave mentre si rovescia sul suo fianco destro. E per questo motivo ho chiesto a un mago delle simulazioni, Ships XE, lo trovate su YouTube, di elaborare il rovesciamento della Concordia. Quello segnato dalle frecce è il ponte 3 di destra, dove si trova Schettino e da dove sono partite le lance di salvataggio. Alle 00.17 la Concordia comincia a rovesciarsi sul suo fianco destro. Che potrebbe fare una persona che si trova sul ponte 3? Potrebbe solo saltare, allontanarsi per non finire schiacciata dalla nave che si sta rovesciando. È quello che fa il comandante Schettino. Questa semplice e comprensibile catena di eventi è stata trasformata in calunnia da De Falco, dal procuratore e dal pubblico ministero, che senza aver visto nulla direttamente o indirettamente, hanno accusato Schettino di aver abbandonato la nave. Loro 3 non erano certamente lì mentre la nave si rovesciava. Non esistono filmati che mostrano quei momenti. Non hanno testimoni oculari in grado di confermare la loro versione dei fatti. Eppure tutto il mondo sa che il comandante Schettino ha abbandonato la nave. E poi un'ultima novità. Io continuo a riascoltare le comunicazioni di quella notte e vi faccio sentire questa di De Falco che comunica ad altri soccorritori che il numero di passeggeri della Concordia non è quello che si pensava che fosse. Perché a Civitavecchia erano stati imbarcati altri 500 passeggeri. Ascoltate. Che significa questo messaggio? Che Schettino non ha salvato più di 4.000 persone, ma ne ha salvato più di 4.500.